Da questo lato ci sono i più piccoli, più piccoli, manca solo il mister Ucci, Antonello detto Billy, ma ci sta Nicola Di Cambri, l'altro mister, e Matteo De Piero. Ragazzi, quelli che non stanno con la divisa classica azzurra, sono nuovi, tutti nuovi, abbiamo molti nuovi. Un punto c'è anche Luca, Luca Bruzzese, sta dialogando con il mister Matteo.